ciao a tutti siamo in macchina sono le 13 e 59 quindi quasi le due del pomeriggio e noi siamo siamo già partiti da 10 minuti circa stiamo andando a monte veglio stiamo via questa mezza giornata e poi ritorniamo verso domani prima di cena perché essendo domani ferragosto non vogliamo trovare traffico per le strade dato che poi io martedì ricomincio subito a lavorare pian piano ci abbiamo le strade sono deserte essendo le due del pomeriggio il 14 agosto mi sa che ci siano o in vacanza oppure a casa al fresco e niente noi ci rivediamo quando arriviamo in albergo ciao ciao a tutte le ragazze eccoci qua siamo arrivati alla locanda filomena osteria locanda filomena ci siamo già registrati e qui c'è la la camera questa è la piccola entra aiuto entrata troviamo il tabullito ci sono i fiorelli una piccola una piccola cina c'è anche servo muto lo che serve per appoggiare i panni l'armadio l'armadietto l'armadietto non ce lo faccio neanche quindi c'è una cassa forte si si vede si e il frigo bar qua la titta della porta l'armadio l'ho già messo della mia roba il suo forno è il letto che si deve fare insieme in permanente quindi si mangia tutte le lunghe abbiamo il suo letto già della mia roba su il televisore poi abbiamo il letto matrimoniale si scusa ci siamo adesso dopo ci cambiamo perché andiamo in piscina io stamattina avevo detto che avevo preso solo quello intero invece sono andata sul mercato e tanto c'è il nostro amore che non si cambia e mi sono preso i bikini ragazzi io in bikini va bene cioè faccio pio a domani piove gente ne vedetevi colto che è colpa mia lì c'è l'altro tavolino che ne sono due tavolino comodino che sono due quadri il condizionatore le luci sono appese si sono belle ma anche l'armadio mi piace così è una camera da 3 e qui c'è il bagno entra tu qui c'è lo specchio questo è il nostro bagnotone ma è più grosso di quello che abbiamo noi a casa ma che bella la doccia dove c'è anche i campioncini di bagnoschiuma e giustamente e shampoo ma che bella la doccia io ce l'ho già passata a guardare i fondi e i capelli bello ci sono le cuffie per fare la doccia per non bagnarsi i capelli saponetti e campioncini di bagnoschiuma e lavandino l'altro l'altra volta era diverso sì perché l'altra volta eravamo nelle camere perché eravete due basta esatto invece questa volta abbiamo preso quella a 3 perché c'è anche la la dita con l'uomo ma cosa c'è fanno vedere altre campioncini altre campioncini questo qui è il shampoo doccia questo qui shampoo doccia anche quello sì shampoo doccia altra finestra anche qua sì è bello che se apri la finestra è bello di queste camere l'aria condizionata si spegne automaticamente e quindi non c'è pericolo di ci sono due bei appendi di abiti è bello questo quadro l'ho già fatto inquadrare questo quadro mi piace ancora di più davvero però sarebbe giusto guarda che dico il nome giusto nel cellulare guarda sulla tessera la tessera ah la tessera grazie questa qui noi siamo qua inquadra bene sì noi siamo qua e siamo c'è anche l'indirizzo? mail se non sbaglio il sito web e numero di telefono guarda c'è da dopo magari una volta che ci siamo cambiati vi faremo vedere il panorama fuori chiudiamo dopo ci siamo in piscina la titta sta valutando se è il caso di stare dentro l'acqua o no perché c'è l'acqua che è un po' freddina sinceramente non è vero non è vero sono stati dentro cos'è 5 minuti noi però non è vero le campane che suonano questa è la piscina e questo è un meraviglioso spettacolo che vediamo guardate che bello che è è stupendo siamo sulle colline bolognesi questo è rilassamento puro l'anno prossimo abbiamo già pensato di prendere la suite e stiamo valutando se portare anche a Chirara no niente non abbiamo valutato per Chirara non è vero 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 ah ecco allora noi siamo in democrazia due hanno votato no quindi mi dispiace ma anche l'anno prossimo mi sa che la Cici debba rimanere la casina bella mi dispiace per la Cici eccoci qua ragazze dopo aver fatto il bagno la doccia abbiamo preparato i vestiti per stasera allora io mi metto il vestito questo qui bianco bianco nero nero a fiori a fiori con le rose rosa con le spalline piccole e in mezzo una piccola scollatura ecco qua il mio amore che tra l'altro oggi compiere anche gli anni oggi è il suo compleanno si mette i pantaloncini jeans rosa con la polo quella viola e invece la nostra la matita si mette il bel vestitino cos'è blu? il corpetto è blu con la cerniera e il sotto è bianco e ehm sempre blu questi sono i ehm sandali che mi metto con le zeppe se li ho presi dal mi ha presi il mio amore all'in blu e sono non comodi stracomodi quindi per dirlo io eh e queste qui aspettate sono le scarpine della tita eccole qui le scarpette col tacco che lei scusa ho inquadrato la mia ciabatta non era il massimo della vita e queste sono le scarpe che si mette la tita per andare fuori cena adesso ci vestiamo e poi ci avviamo al ristorante praticamente apriamo la porta scendiamo la scala e siamo già al ristorante ci vediamo dopo ciao 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 ciao